Più che insegnare, noi poi in realtà vorremmo far vedere, far vedere con l'esempio quanto è divertente la musica, quanto è divertente quella canzone di Concato, quanto non ci avevi mai pensato, ma pure la quarta di Mahler è molto interessante anche per te che stai mangiando mentre ci guardi su Rai 3. Vado a zonzo col mio cuore, sognato, e tu lo soppi, mi piacciono ancora di perdere sulle pronte, mille fiori che parlano d'amore. Ci piace farlo, fare televisione, ci piace farlo. Ci piace fare televisione, perché è veramente un mezzo meraviglioso, l'unico mezzo, uno dei pochi mezzi che arriva a tutti, tutti nello stesso momento, quindi mai avremmo creduto, come sai, di stare in quella scatola, però ci stiamo bene, ci stiamo bene. Poi non ce l'abbiamo, quindi non la guardiamo, ma ci piace il fatto che comunque ci sia che possa essere usata, perché se usata con consapevolezza è una meraviglia, sì. Io pensavo che in effetti è giusta anche la metafora che ti è scappata, cioè è come il sesso, ci piace farlo ma non guardarlo. Può essere, sì, perché noi facciamo, cioè portiamo avanti il nostro racconto, siamo liberi da qualsiasi dogma, da qualsiasi regola, perché è l'unico modo per arrivare davvero alle persone, arrivare veramente. Noi speriamo tanto di stare usando la televisione, essendo essa un elettrodomestico, per arrivare a chiunque. L'intenzione è di parlare al bambino, all'esperto di musica, all'appassionato di musica e alla persona che invece non conosce la musica e magari non pensa che abbia un ruolo importante nella sua vita. Sono ragazzini, come dicevano i bambini, anziani, novantenni che ci scrivono, che ci chiamano. È bellissima questa fascia oraria, noi all'inizio eravamo comunque un po' spaventati, diciamo ma cosa ci facciamo lì in mezzo, no? E invece è appunto la forza di arrivare a tutti. Più che insegnare, noi poi in realtà vorremmo far vedere, far vedere con l'esempio quanto è divertente la musica, quanto è divertente quella canzone di Conkato, quanto non ci avevi mai pensato, ma pure la quarta di Mahler è molto interessante, anche per te che stai mangiando mentre ci guardi sulla E3. Non è davvero un intento didattico o divulgativo, ma quanto di aprire la propria stanza dei giochi. Ecco qua, ci siamo Valentini, vi facciamo vedere quanto bene ha fatto a noi ascoltare musica. Noi facciamo tutto insieme, dallo spettacolo teatrale che abbiamo scritto, al programma su Radio 3, al disco, al programma TV, ad altre cose, è il cortometraggio di cui Valentina è regista e io scrivo le musiche e i miei album hanno in copertina fotografie scattate da lei. Quindi quanto ci influenziamo a vicenda è impossibile da dire, in realtà è un travaso continuo di informazioni, perché io mi fido completamente del gusto di Valentina. Stiamo bene insieme, viaggiamo, paralleli, sappiamo stare sempre uniti, però appunto guardare anche le varie strade. Ma io quando penso a un progetto, per me non vedo l'ora di parlargliene e di confrontarmi con lui, è proprio qualcosa di naturale. Siamo tutti contemporanei, io, lei, Ron, Philip Glass. Siamo molto curiosi, quindi in realtà siamo andati a scandagliare e abbiamo identificato qualcuno che ci piace in quel mondo. Uno è Anastasio, col quale io poi, lui è venuto già ospite nell'edizione precedente, e poi io ho fatto anche un brano insieme, io ho scritto la musica, lui il testo, ci siamo divertiti moltissimo e per me è fortissimo. E l'altro è Da Supreme, a me piace Da Supreme. Perché si vede che proprio ama la musica, cioè si vede che uno studio, si vede che lo fa proprio con tutto se stesso. Ti ricordi la prima edizione di Via dei Matti? Quando eravamo molto giovani! Era il 2021! Sì, io ridevo, tu sono carini, che carini che eravamo! Benvenuti alla settantaduesima! Aspetta, 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 stavo per cadere sulla cacchiera! Questa è l'immagine che ci hai fatto venire, diciamo, così al volo, però magari ce n'è una più sobria. Ma sai, noi non ci annoiamo mai, perché comunque tutto è nuovo, tutto esce appunto da qualche parte. Da dove esce? Non so, aspetta che non so. Esce da qui, esce da qui, entra da qui, chissà dove. Nel caso dovessero esaurirsi certe tematiche, certi argomenti, faremo altro. Abbiamo un sacco di progetti in mente, dalla scrittura, cinema, musica. Grazie. 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 Grazie.